L'incidente oggi lunedì 10 dicembre poco prima delle 13.30 è in corso potenza in incrocio con via Bernardino Luini. A scontrarsi una vettura della Polizia di Stato che viaggiava in sirena e una Mercedes Coupé con a bordo alcuni giocatori della Juventus Primavera. L'impatto è stato alquanto violento, la Seat della Polizia si è ribaltata mentre la parte anteriore del Mercedes si distrutta completamente. Feriti i due genti a bordo dell'auto della Polizia. Grazie. Grazie.